Perché sì? Devo guardare te o lui? Scusami, scusami. Perché sì? Ma i motivi sarebbero tantissimi. Uno per tanti più importante, ad esempio, è per razionalizzare le competenze regionali, per evitare che delle materie di natura nazionale siano a discrezione di alcune regioni, con delle ricadute poi inevitabilmente sul territorio nazionale per tutti i cittadini. E soprattutto perché si vuole un cambiamento, penso che sia inequivocabile. Ho parlato? Ho parlato, sono Virginia Lepore, faccio parte del comitato Budrio che dice sì e anche del comitato del circolo del PD di Budrio.